tutti i bagnini, a che ora se ne andavano? all'oltre erano a casa, agli 7 erano già la casa, all'oltre erano già arrobati, se sei capace fai una denuncia formale, lui viene accusato di filipendio al bagnini e poi sul cazzo dito, perchè ora basta, ora te lo ti parlo, comunque torniamo alla nostra intervista caro, ma tu ci fai un intervento stagione, torniamo a noi Mimmo e chiedimi di Lola Falana appunto, io mi ricordo, beh tu, devi pure improvvisare se no siamo rurani, quindi stavamo dicendo appunto della straordinaria mulatta Lola Falana con la quale io ho avuto una storia, ah tu io no, si si tu no, e la quale però, mentre eravamo lì, ansimanti sulla spiaggia, invece di chiamarmi col mio nome di battesimo, continuavo a dire si Mimmo, si Mimmo, si Mimmo, ecco allora, da dove, o c'era un omonimo? no io non c'era quel giorno, ma tu sei un omonimo? no, perché che si diceva si Mimmo, no, perché, sai perché? si Mimmo, dai dance, dai dance, si Mimmo, si Mimmo, no, sai perché? questa qua sta sognata mille, no, ti sono uscita, capite? si, ma quel giorno mi sono andata, no, ti sono uscita, lo sai perché? perché davanti, poco poco ne assemigliamo diciamo, no, non ho la tua, il tuo prato nevoso, però dietro, ottengo una pila, quindi quando si abbracciava della rete, puoi dare, capite? io sì, ciò? no, lo faccio vedere, no, adesso l'ora di un'antica, poi si vede un po', vabbè, obiettualmente, obiettualmente, mi hanno certo la parte, io invece, ottengo uno pilo, non ho un pigmento, allora giustamente, chi era, quando mi ha una pranzicata, non sei Mimmo, non c'è dance, non c'è Mimmo, non c'è dance, oh, non me l'ha data più, Mimmo, perché, perché era convinto, era convinto che era, io, 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 mi sono l'ambracciato, Evo io? Evi tu. No, tu non sei l'hai fatto apposta. Evo io, evi tu. No, l'hai fatto apposta. C'è il mio ragione, avevamo 20 anni, 21 anni. C'è il mio ragione, avevamo 20 anni, 21 anni. C'è il mio ragione, avevamo 20 anni, 21 anni. C'è la mia stessa età, perché siamo coetane. Io sono più 72. 72. Io sono di novembre. Sono un sagittario, in una certa novella. Tu sei il dicembre, il settembre. Quindi sei ora. Da tutti i sensi. Che si dice? Sette monete. Perché tu fai niente, non crederai. Fai niente. No, ma tu. Non lo so se fai. 22-24 anni. O potremmo dire, no. Cazzo, venivano, una settimana di giorni e sentivano. Da fine settembre. Insomma, uno è accugionato a me. Mi ha detto. Ma io stai guardando quante canuccele. Che ora è? Mi fai accendere le solute storie. Poi chiederti che segno zodiacale sei. Ti voglio fare l'oroscopo. Io ho detto, sincero, ci ha detto segno zodiacale. No, me l'ho chiesto. Ha detto segno zodiacale e tu ci ha detto vergine. E io ho accugionato. Vergine, sei vergine. E io ho detto, no. Cazzo capito. Dici tu, dici tu. Consumata. Massacata. Di botti o... Cumulino. Cumulino. All'ultimo.